E' un progetto che a me non è piaciuto per niente, lo trovo anche abbastanza mediocre perché è una colzaglia di tanti stili e di tanti artisti che tra loro spesso non c'entrano. Un'ora da anni fa Eva Check the Smoker che sono riusciti a fare belle strofe in mezzo a tante mediocre, a tante trashate e non mi piace per niente la direzione che sta prendendo la macete che io quando ero più giovane diciamo ascoltavo molto spesso ma adesso mi stanno scadendo tutti perché soprattutto Salmo che sta seguendo questa specie di wave iniziata con playlist. La sua principale, cioè la sua individuale e sta portando un po' tutta la macete su quello stile del cazzo quindi vabbè tanti fa Eva Check the Smoker come ci ha detto gli unici che salvo e gli altri per niente. Devo dire Lazza qualche strofa carina Massimo Pericolo mi sono piaciuto entrambe le sue strofe, Marrakesh schifo, mi dispiace per Marra che è il mio rap preferito ma proprio schifo. Salmo solo come produttore, Supreme baffanculo, smette di fare musica, Tedua carina la strofa, non mi so se ne è fatta uno o due, comunque è una fibra un po' meglio del solito ma niente di che, gli altri davvero poca roba. Soprattutto il raton, il raton inutilissimo. Beh, questa recensione è breve perché la memoria è quasi finita ma visto che ho dato pochi ascolti, c'è un ascolto due frettolosi veloci giusto per fare la recensione. Quando lo riascolterò un po' meglio, nei prossimi giorni, poi magari se cambio idea farò una recensione finale, una specie di recap. Beh, direi che per questo video può essere tutto e ci vediamo al prossimo.